Ciao a tutti, sono Marta di Creativa SRL. Oggi vi volevo parlare di queste bellissime tag di legno stampate in quadricromia. È un prodotto esclusivo di Creativa SRL, anche i disegni li abbiamo realizzati noi. Li potrete trovare in tutti i negozi che rivendono il nostro marchio Creativa SRL. Ve li racconto un pochino. Allora, sono dei disegni un po' per diverse occasioni. Quindi abbiamo fatto il body, ad esempio, maschietto e femminuccia, con scritto benvenuto e benvenuta per le ghirlande nascita, ovviamente, sia in dimensione piccola che in dimensione un pochino più grande. Basta semplicemente abberlirle anche con un fiocco, piuttosto che andando a incollare il nome del bambino del nascituro direttamente sopra. Ovviamente sono rigide, per cui non vi portano a nessun problema, non si afflosciano e rimangono tranquillamente in forma. Qui gli abbiamo inserito un pezzettino di nastrino collegato poi del tulle, con appunto la scritta del nome, il fiocchettino, eccetera. Quindi sono velocissimi davvero da realizzare. Ovviamente anche per i compleanni, che sono sempre delle occasioni particolari, noi l'abbiamo pensata per abbellire le nostre ghirlandine di tulle, piuttosto che anche dei lavori di feltro, eccetera. Oppure potrebbero essere anche dei veri e propri bigliettini augurali, per cui anche dietro potrete andare a scrivere, perché comunque è legno, per cui con una semplice penna andrete a scrivere, per cui fare una dedica di personalizzazione. Ad esempio anche per questa, che oggi sposi, quindi carinissimo, anche mettere i nomi dei due sposi, eccetera. Anche qui per ghirlandine e quant'altro. Ovviamente anche per i maschietti, abbiamo provato un pochino a pensare anche a loro, maschietti e bambini un pochino più grandi. Quindi andare a fare magari una ghirlandina della squadra del cuore, con ovviamente la tag che dice già tutto, con i miei campioni, per cui basterà magari mettere il nome della squadra o comunque identificarla con i colori. Anche qui ad esempio con una bellissima tag, che è già particolare, perché è già piena e già ricca, per cui basta semplicemente un piccolo fiocco dei fiorellini di feltro e già il nostro oggetto rimane fatto e finito, per cui molto semplice da fare. Ok, vi ricordo intanto che tutti questi disegni appunto li possiamo anche personalizzare direttamente, se avete anche qualche idea particolare, quindi anche telefonateci oppure anche via mail, eccetera, vi possiamo proprio dare il servizio di andare a stampare tutto ciò che vi può piacere, ovviamente facendovi prima un preventivo. Mi raccomando, seguite sempre i nostri prodotti dai nostri negozianti, che rivengono sempre dal marchio Creativa SRL, oppure sul nostro sito che è www.creativosrl.com. Grazie a tutti e alla prossima, ciao ciao!